Buongiorno cari telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata delle coordinate dell'economia. Ci siamo lasciati il mese scorso facendo un po' una panoramica su quelli che sarebbero stati gli avvenimenti che avrebbero caratterizzato il mese a venire e oggi direi che rispetto al solito format dell'educazione finanziaria andremo un po' ad analizzare quanto è avvenuto e a vedere quelli che sono stati gli effetti sull'economia e quelli che saranno gli effetti in futuro. Innanzitutto vi ringrazio per essere sempre così numerosi a seguire il programma, alcuni sono venuti a trovarmi anche in ufficio, vi ringrazio tantissimo, i miei recapiti continuate a vederli sul video, quindi se vi fa piacere avere poi un colloquio personalizzato non esitate a contattarmi e naturalmente con privacy andremo ad analizzare quelle che sono comunque le vostre richieste e le vostre peculiarità. Tornando un po' agli avvenimenti che hanno caratterizzato questo periodo sicuramente dobbiamo prendere in considerazione la pandemia che si è riaffacciata in modo molto marcato. Allora quasi tutti durante l'estate avevamo un po' immaginato che la situazione di criticità che avevamo vissuto a marzo-aprile si fosse allentata, viceversa nelle ultime settimane anche a causa del numero elevatissimo di ammalati e di ricoverati negli ospedali, le autorità governative hanno dovuto mettere mano a un nuovo decreto presidente del Consiglio dei Ministri che ha comportato delle nuove restrizioni. Questo sicuramente, a parte tutta una serie di effetti di disagio personali e lavorativi che ci può creare, ha degli effetti sull'economia molto marcati e già nelle ultime settimane probabilmente ci siamo resi conto di come questi avvenimenti condizionino tutta l'economia mondiale. In particolare per quanto riguarda l'Italia abbiamo assistito a una chiusura di molte attività o a un rallentamento di altre. Se noi andiamo ad analizzare un pochettino dal punto di vista economico quello che sta succedendo, diciamo che le previsioni dei maggiori analisti sono focalizzate sul fatto che quest'anno il PIL dell'Italia chiuderà all'incirca o meno 10%. Si auspica nella seconda fase, quindi nel 2021, che gli aiuti da parte della Banca Centrale Europea tramite i ristori che arriveranno alle aziende e all'immissione di moneta che verrà fatta tramite l'acquisto di titoli di Stato possano stimolare l'economia e portare la crescita del PIL italiano intorno a un 6%. Il disagio da parte di molte attività economiche è palese in questo momento, tuttavia i mercati proprio confidando sugli aiuti della Banca Centrale che verranno elargiti ha reagito positivamente a questo avvenimento che ha coinvolto comunque in misura marcata di nuovo tutto il mondo. Cioè non soltanto noi come Italia ma il PIL è in una fase discendente più marcata anche in tutti gli altri stati dell'Europa quindi vediamo le difficoltà che sta vivendo la Germania, la Francia, la Spagna eccetera. Viviamo più marcatamente le nostre perché siamo maggiormente a conoscenza di quelli che sono gli avvenimenti economici che ci coinvolgono. Quindi al momento è chiaro che siamo spettatori di una realtà in evoluzione ci auguriamo che gli eventi successivi ci vedano comunque ritornare a una normalità e riprendere le fila di un discorso di crescita che avevamo interrotto questa primavera e che ci aveva visti comunque fare queste previsioni abbastanza a ribasso per quanto riguarda il PIL del nostro paese. L'altro avvenimento molto importante del quale siamo stati tutti partecipi sono state le elezioni americane. La volta scorsa avevamo un po' cominciato ad analizzare quella che poteva essere un'ipotetica situazione sulla base di alcune previsioni che analisti sia finanziari sia analisti di altre tipologie avevano abbozzato in tutto il mondo. A dispetto forse di quello che si pensava abbiamo assistito a questa vittoria di Biden che cambierà sicuramente gli scenari dell'America ma anche gli scenari economici del mondo. Sicuramente la cosa che colpisce in modo particolare è stato il discorso che Biden dopo la vittoria ha comunque effettuato per gli americani e per tutto il mondo dove ha annunciato che i provvedimenti principali dovranno riguardare in questo momento la pandemia e il porre argine e risoluzioni a tutti i problemi che la pandemia ha creato non solo in America ma in tutto il mondo. Quindi ci aspettiamo sicuramente una serie di normative e di aiuti da parte della Fed americana atti a creare quelle condizioni di ripartenza che lo Stato americano e gli Stati Uniti prevedono prossimamente. Altro aspetto molto importante per quanto riguarda l'insediamento di Biden è che nel discorso lui ha fatto presente che vuole un passaggio alla Casa Bianca ordinato. Stiamo assistendo ancora alla prerogativa che Trump in particolare non si è ancora reso al fatto di non essere il vincitore quindi sta ostacolando la presa di posizione di Biden. È chiaro che effettivamente la sostituzione fra i due presidenti avverrà a fine gennaio quindi in questi mesi assisteremo probabilmente ad una fase con un dibattito molto marcato fra il presidente uscente e il presidente entrante. Altro aspetto di grande rilievo in questo caso è la scelta come vice di Kamala Harris che rappresenta comunque innanzitutto un volto femminile che si affaccia alla politica americana quindi una grande innovazione e per di più una persona di colore che riprende un po' i discorsi politici ed economici che aveva portato avanti precedentemente Obama nella presidenza passata. Allora per l'America sicuramente inizierà un periodo di cambiamenti, di cambiamenti molto importanti che Biden intende comunque valutare un po' per volta durante i vari passaggi. Interrompo momentaneamente perché abbiamo già una chiamata in diretta. Allora forse è caduta la linea, il telespettatore vuole richiamarci momentaneamente. Aspettiamo un attimo se no poi riprendiamo. Allora, tornando a parlare del discorso dell'America, come vi dicevo assisteremo comunque a una serie di cambiamenti molto importanti che coinvolgeranno un po' tutto il paese. Allora sicuramente l'approccio che Biden avrà con la politica estera sarà diverso da quello che aveva adottato Trump. Questo non vuol dire che ci aspettiamo un'eliminazione dei dazi o un taglionetto in quelli che sono comunque i rapporti con gli altri paesi. Anzi, ci si aspetta probabilmente un atterraggio molto più morbido e una serie di provvedimenti che facciano in modo ci sia una collaborazione molto attiva con gli altri stati. In particolare sicuramente i risvolti importanti saranno i rapporti fra Stati Uniti e Cina che nel futuro riserveranno comunque degli aspetti economici molto importanti che condizioneranno i mercati di tutto il mondo. Allora, nelle ultime settimane come hanno reagito i mercati di fronte a quelle che sono state comunque queste situazioni che hanno caratterizzato il periodo? Mercati, a dispetto di quanto si pensava, hanno reagito molto bene, addirittura in qualche giornata con una presa di posizione molto importante per l'azionario. Questo la settimana scorsa è stato anche determinato dal fatto che è apparsa la notizia che Pfizer avrebbe trovato un vaccino testato con dei risultati positivi fino al 90% e che permetterebbe prossimamente di essere distribuito in gran parte del mondo. È stata una notizia che perché ha coinvolto i mercati? Perché il fatto di poter distribuire un vaccino vorrebbe dire prevedere una ripartenza economica molto più veloce rispetto a quello che gli analisti precedentemente ipotizzavano e sicuramente dal punto di vista della crescita una fase importante perché le economie sarebbero portate a ribaltare un po' le previsioni che erano state messe in atto precedentemente. È chiaro che nonostante il discorso del vaccino si continua a puntare molto su quelli che saranno gli aiuti da parte delle banche centrali, sia in Europa sia in America, questo vorrà dire a livello obbligazionario assistere probabilmente fra 3-4 anni ad un aumento dei tassi di interesse perché oggi sul comparto obbligazionario sia nel blocco europeo che nel blocco americano stiamo assistendo ancora a tassi di interesse pari a zero o negativi in Europa. Per quanto riguarda ad esempio i titoli di Stato italiani tutti siamo ancora spettatori del fatto che un bot abbia un interesse negativo, quindi il risvolto dei risparmiatori è stato un risvolto molto importante per tutte quelle persone che avevano comunque investito in comparti azionari. In particolare ci sono stati mercati che nella giornata dell'annuncio del vaccino hanno performato fino al 5%, dando grande risalto alle componenti azionari e presenti in tutti i prodotti di risparmio e nelle asset allocation del progetto dell'investimento. A breve, ecco, la situazione in America sicuramente sarà una situazione comunque di confronto fra il presidente Biden e il presidente Trump per arrivare a fine gennaio all'insediamento vero e proprio. Per quanto riguarda la politica di Biden, come vi dicevo poco fa, ci aspettiamo comunque una fase più morbida e una fase di rivisitazioni degli accordi con tutti gli stati mondiali. Attualmente diciamo che c'era stata una certa tensione soprattutto da parte di Trump nei rapporti con la Cina. Questo perché molti prodotti che l'America consumava venivano ancora acquistati dal blocco cinese. Quindi il fatto di voler preservare la crescita dell'economia americana ha fatto sì che il presidente Trump fosse un pochettino propenso ad inserire dei dazi e a praticare il consumo dei prodotti interni per far crescere ulteriormente l'economia. Come vi avevo detto già in alcune puntate precedenti, per quanto riguarda la crescita dell'economia americana siamo un po' alla fine di un ciclo economico che ha visto l'America crescere per circa otto anni. Quindi indipendentemente da quella che potrebbe essere la politica che Biden porterà avanti gli analisti sono propensi a pensare che nei prossimi anni ci sarà almeno in parte una fase di discesa dell'America. Allora, questo gli analisti lo fanno da un lato ricadere sul discorso delle riforme che Biden metterà in atto ma dall'altro canto anche il fatto che comunque ci sia da parte del ciclo economico una fase finale che sfocerà probabilmente fra un paio d'anni in una ripartenza. Che cosa ci aspettiamo a livello mondiale nei prossimi anni a livello economico? Allora, come accennavo nelle puntate precedenti, si stanno spostando un pochettino quelle che sono i primati degli stati mondiali. Siamo stati abituati fino ad oggi a vedere gli Stati Uniti come numero uno al mondo perché per la produzione, per il prodotto interno lordo, per il ciclo economico. Ecco, nei prossimi anni sicuramente dovremmo abituarci ad un cambio di marcia che vedrà invece la Cina e tutto il blocco asiatico prendere posizione e arrivare a una fase di crescita predominante rispetto agli Stati Uniti. Questo perché? Perché attualmente... Allora, mi dicono che sta arrivando un messaggio, vediamo un attimino il telespettatore che ci ha inviato il messaggio. Ecco, proprio nel discorso che stavamo affrontando, cosa pensa degli investimenti in Cina e bacino asiatico? Enzo da Pinerolo. Buongiorno Enzo. Allora, continuo proprio il discorso che stavo facendo perché è legato alla domanda che lei mi pone. Allora, la Cina ha avuto questo periodo di lockdown molto marcato che ha vissuto nel periodo marzo-aprile. Successivamente ne è uscita molto bene e abbiamo attualmente un prodotto interno lordo che si attesta all'incirca sul 5%. Questo perché? Perché noi dobbiamo valutare che l'economia cinese rispetto al passato non è più focalizzata fortemente sulle esportazioni. Assistiamo a una classe media cinese che ormai è cresciuta molto culturalmente, naturalmente, viaggia e soprattutto dispone di una ricchezza molto elevata. Questo fa sì che possa permettersi di acquistare prodotti di lusso. Mi è capitato di vedere, proprio appena terminata la fase di pandemia di aprile-maggio, file di cinesi davanti ai grandi negozi di lusso, quindi Chanel, Vuitton, eccetera, che acquistavano beni di grande importanza. Questo ci fa capire come sia cambiata l'economia cinese. Quindi la Cina non è più il paese che punta alle esportazioni marcate, ma l'80% del prodotto interno lordo viene assorbito dalla classe media. Una classe media sempre più preparata e tecnologicamente molto moderna e molto avanzata. Quindi a oggi pensare di investire sul bacino cinese, soprattutto investire in azioni legate alla Cina tramite fondi di investimento, è sicuramente un consiglio che io elargisco a molti risparmiatori, naturalmente tenendo presente quello che è il proprio profilo di rischio e la costituzione del portafoglio. Però andare a fare una scelta di questo tipo, valutando un arco temporale di 8-10 anni, darà sicuramente delle grandi soddisfazioni, perché sicuramente le aziende cinesi, soprattutto quelle che sono ancora quotate ai mercati locali, quindi non vediamo ancora presenti nel Lanseng, nel listino di Hong Kong, Shanghai, avranno la possibilità nei prossimi anni di avere una crescita esponenziale molto elevata e di dare grandi soddisfazioni. Questo avviene anche perché alcuni fondi di investimento hanno avuto il permesso di inserire al loro interno anche azioni che non sono ancora quotate al mercato ufficiale, ma al mercato secondario. La presenza sul territorio di analisti e di gestori delle più grandi marche di fondi e di gestioni fa sì che ci sia una possibilità di crescita nei prossimi anni molto esponenziale per i risparmiatori che sceglieranno prodotti improntati alla Cina. E altresì una buona differenziazione si può avere acquistando comunque fondi e gestioni che abbiano una partecipazione sul mercato asiatico. meno accentrata rispetto alla Cina, ma sicuramente è un bacino fisico che noi andremo a vedere crescere e dare dei risultati molto importanti. Mentre all'opposto gli analisti si aspettano per quanto riguarda l'America invece una situazione di stop momentaneo, una fase laterale che dovrebbe poi portare fra un paio d'anni alla ripartenza di un nuovo ciclo economico. E' chiaro che la velocità con cui questi avvenimenti si verificheranno è determinata sia dalla politica che Biden metterà in atto quindi dal tema d'azzi, confronto economico con la Cina sia da quella che sarà comunque la fase di immissione di liquidità da parte della banca centrale americana. Questo vuol dire che dopo l'insediamento di gennaio io mi aspetto, ma come se lo aspettano i grandi analisti una revisione delle politiche economiche americane è probabilmente un ammorbidimento dei rapporti con il blocco cinese e con il blocco asiatico. E' difficile pensare che il popolo americano dopo tantissimi anni di supremazia possa vedere un sorpasso da parte della Cina però progressivamente dovremmo abituarci a questo tipo di visione mondiale anche perché tecnologicamente la Cina ha raggiunto un livello tale da permettere comunque di scavalcare gli Stati Uniti e con rispetto alla popolazione media americana la cultura tecnologica nel blocco cinese e nel blocco asiatico è molto più elevata e visto che si sta andando verso comunque una diffusione della tecnologia che avrà comunque un'influenza anche sulle scelte ESG di tutti i paesi del mondo le previsioni sono sicuramente di un sorpasso che avverrà nei prossimi anni. Per quanto riguarda gli effetti sulla valuta dell'insediamento di Biden e il riflesso sulla valuta cinese gli analisti al momento sono abbastanza tranquilli nel senso che il dollaro potrebbe in un primo momento subire un pochettino una discesa quindi potremmo assistere ad un dollaro che può tornare intorno a 1,20 1,22 e questo dipenderà un po' dalla velocità di immissione del denaro da parte della banca centrale americana per poi ritornare su una fase intorno a 1,13-1,15 che è quella che aveva sostenuto nelle ultime settimane antecedenti le elezioni americane. Il remimbi, la valuta cinese ultimamente è rimasta sostanzialmente stabile i giorni proprio antecedenti le elezioni americane aveva avuto un pochettino una discesa superato questo scoglio con la vittoria di Biden lo yuan ha avuto un grosso lungo rispetto al dollaro quindi questo fa presagire come vi anticipavo una fase di crescita dell'economia cinese molto marcata quindi al telespettatore io rimarco il discorso che compatibilmente con il proprio profilo di rischio inserire comunque delle azioni della Cina chiaramente sotto forma di fondi nel proprio portafoglio avrà sicuramente un risultato importante perché dico sotto forma di fondi? Perché ad oggi dobbiamo pensare comunque che l'andare ad acquistare da soli delle azioni su un mercato che conosciamo poco e soprattutto la difficoltà di fare ancora un'analisi tecnica delle aziende renderebbe molto difficile il discorso e probabilmente potremo anche non azzeccare il timing giusto per effettuare l'acquisto o la vendita quindi porci poi in una posizione che anziché dacci un vantaggio l'acquisto sull'economia cinese creerebbe invece una situazione critica sul nostro portafoglio questo io lo rimarcavo già nelle puntate precedenti quando i risparmiatori mi ponevano il dilemma se acquistare un fondo o se acquistare delle singole azioni il favore nell'andare a scegliere un fondo è sempre legato al fatto che all'interno non ci può mai essere più del 10% di ogni singolo aggregato questo vuol dire che se dovesse fallire un'azienda al massimo io posso perdere il 10% momentaneamente dell'importo che ho investito ma non metto a rischio tutto l'importo che ho destinato a quell'asset class a quell'investimento quindi carissimo telespettatore mi raccomando si faccia aiutare dal consulente a scegliere un fondo sulla Cina lo seguo attentamente se poi ha bisogno di consigli mi raccomando sentiamoci e andremo a valutare quelli che possono essere gli effetti sul suo portafoglio assolutamente mi rendo disponibile a darle un consiglio personalizzato allora per quanto torniamo un pochettino al discorso precedente legato anche agli effetti del vaccino che come vi dicevo ha creato una fiammata molto importante sui mercati perché abbiamo assistito ad alcune giornate a una giornata in particolare dove i listini hanno fatto un più 5% ecco sicuramente se questo vaccino in tempi brevi riuscisse a dimostrare gli effetti favorevoli sulla pandemia potremmo assistere a una ripresa economica più accelerata rispetto a quello che pensavamo prima perché ad oggi i maggiori analisti basandosi un po' sulla realtà attuale quindi antepresenza di questa notizia sul vaccino stimavano indicativamente che il 2021 con le emissioni degli aiuti da parte della Banca Centrale Europea sicuramente avremmo potuto per l'Italia raggiungere un pilo intorno al più 6% e chiaramente le aziende avrebbero ancora dovuto valutare la fase di pandemia che potrebbe protrarsi per l'anno prossimo allora chiaramente più saremo comunque attenti alle regole e a quello che è il comportamento richiesto e più velocemente supereremo la pandemia al momento è difficile fare delle stime anche perché nel momento attuale una grossa parte del denaro che gli stati hanno è destinata comunque all'emergenza sanitaria quindi a dispetto dei progetti che Italia, Francia, Spagna e Germania avevano ipotizzato fino a settembre quindi fino alla conclusione delle vacanze ci sono stati da parte dei vari stati degli spostamenti di capitoli per far fronte alla nuova ondata di emergenza e questo sia per poter permettere dei ristori a quelle aziende che devono rimanere chiuse nei vari stati ma anche per far fronte alle maggiori spese sanitarie che stanno colpendo chiaramente tutti i paesi in questo momento soprattutto il blocco europeo sicuramente ecco l'arrivo di un vaccino permetterebbe in questo momento di far sì che ci sia una velocità nel ripartire una velocità nella fase di ripresa ma anche perché gli animi sarebbero più predisposti anche psicologicamente a valutare un nuovo corso e una fase di ripartenza marcata usufruendo di quelli che sono i denari immessi dalla Banca Centrale Europea in America allora attualmente il problema principale continua ad essere molto simile all'Europa allora la Banca Centrale Americana aveva già immesso precedentemente del denaro sul mercato chiaramente per supplire a quello che era il momentaneo disagio causato anche lì dalla pandemia e soprattutto anche dalla crisi economica che gli Stati Uniti stavano già vivendo prima delle elezioni diciamo che negli ultimi sei mesi l'economia americana ha un attimino retto quello che era il periodo perché c'è stata proprio l'immissione di denaro in quanto il prodotto interno lordo si era praticamente fermato però la grande insistenza che Trump ha avuto nel far continuare l'immissione di denaro ha sostenuto ancora la crescita economica degli Stati Uniti questo perché logicamente lui ci teneva molto ad arrivare comunque a quella fase con un'America molto lanciata perché nei suoi presupposti si palesava ancora la sua vittoria tant'è che ancora oggi lui fatica a prendere buona nota che l'avversario sia giudicato alle elezioni americane quindi questo duello fra i due presidenti per quanto chiaramente Biden voglia un passaggio comunque ordinato potrebbe creare per i mercati una fase laterale di volatilità marcata diversi analisti ne hanno parlato in queste ultime settimane chiaramente potrebbero essere magari delle fasi dove i mercati americani stornano 2-3 punti percentuali e chiaramente parlando di ormai di economia globale di mercati globali il riflesso si avrebbe anche sui mercati europei sui mercati asiatici e parallelamente come dicevo prima sul dollaro che potrebbe tornare a raggiungere magari livelli intorno a 1,20 eccetera e quindi da un certo punto di vista favorire gli scambi che sono regolati con un dollaro più basso e soprattutto in questo caso favorire i paesi sudamericani perché il dollaro debole sicuramente favorisce le loro economie d'altro canto tornando poi a una normalità nel momento in cui Biden si insedierà e comincerà a prendere dei provvedimenti ci si aspetta sicuramente forse da parte di Biden un inasprimento delle tasse anche se non ha ancora annunciato dettagliatamente quello che è il suo programma perché prima dell'insediamento sembrava prematuro comunque annunciare quelle che saranno le azioni gli analisti probabilmente si aspettano una revisione della sanità in America sarà difficile tornare forse al programma sanitario che aveva visto il protagonista Obama però sicuramente un discorso di questo tipo potrebbe presentare delle fasi di crescita importanti perché l'unificazione comunque della sanità darebbe la possibilità a molti americani di disporre comunque di cure e di crescita che attualmente insomma la normativa non prevedeva allora detto ciò ritorniamo un po' a che cosa ci aspettiamo al momento per quanto riguarda i mercati europei allora in questa fase attualmente per quanto riguarda l'Europa c'è una grossa collaborazione da parte delle banche centrali non così paritetica rispetto a tutti gli stati perché per quanto assistiamo ad un'Europa unita la realtà economica dei vari stati non è così omogenea quindi i ristori avranno degli effetti diversi su quelli che sono i paesi partecipanti dell'Europa allora per quanto riguarda l'Italia attualmente diciamo che lo Stato si trova a dover fronteggiare delle spese ancora molto elevate sia per i ristori che per la cassa integrazione però teniamo presente che ci sono comunque mi dicono che c'è una telefonata in diretta allora sentiamo il telespettatore buongiorno 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 chi parla? buongiorno signora Rosanna Scaravaglio buongiorno chi parla? sono Mariuccia buongiorno signora Mariuccia come sta? tutto bene? tutto bene mi fa piacere sentirla vederla sentirla lei sta dando veramente una bella cosa grazie dovrebbe parlare più solente essere più solente nel video grazie grazie troppo gentile Mariuccia mi fa piacere che rieca e continui a seguirmi però però io la voglio la voglio la vedo e le volevo dire che la voglio vedere con me perché io ho tanti anni e non posso uscire non mi lasciano uscire sì guardi signora Mariuccia guardi appena guardi ci sarà più tranquillità in relazione al virus prometto che guardi non la inviterò nel mio ufficio ma verrò a trovarla io al momento le dico il fatto che io non venga a trovarla sono onesta a dirlo non è una mia cattiva volontà ma io incontro tante persone e sono pericolosa per cui venirla a trovare significa mettere a rischio la sua salute e sa che io le voglio molto bene quindi voglio assolutamente astenermi da una cosa di questo tipo però la porto sempre nel cuore perché lei è una mia cliente molto importante molto certamente quindi la prego grazie grazie Rodanna e poi le dico le dico una cosa bella che lei è tanto cara e tanto brava dovrebbe esserci di più in televisione sentire le sue cose sono molto si sente quello che lei dice veramente è sincera grazie Mariuccia un grosso abbraccio e a presto la voglio le voglio bene e poi le devo parlare per tante mie cose lei lo sa grazie Mariuccia rivedremo anche i suoi investimenti glielo prometto buona giornata grazie a te tanto a lei grazie continui così che lei è veramente brava grazie molto gentile allora questa è una mia cliente affezionatissima che io seguo da 30 anni e giustamente a causa della pandemia ultimamente stiamo portando avanti l'operatività sul suo portafoglio con le telefonate perché voglio proprio astenermi dall'incontrare in particolare le persone anziane perché essendo spesso in giro potrei essere veicolo di contagio e quindi voglio evitare questa situazione ringrazio comunque la signora come ringrazio tanti telespettatori che mi telefonano e che mi dicono che vorrebbero venirmi a trovare in ufficio ma giustamente aspetteremo un momento più tranquillo per poter effettuare le visite eccetera allora tornando al discorso che avevo iniziato qualche minuto fa legato all'economia italiana diciamo che l'Italia fortunatamente vanta tutta una serie di realtà che sicuramente post pandemia avranno la possibilità di portare avanti una crescita economica molto marcata abbiamo una serie di aziende sicuramente degne di una ripresa economica manifatture che fanno il distinguo del paese italiano nel mondo quindi al momento il vederle penalizzate dalla pandemia e da questa situazione economica molto stringente fa davvero male però le prospettive ci sono gli aiuti arriveranno e sicuramente arriveremo nuovamente a una fase in cui l'Italia tornerà a distinguersi nel panorama europeo nei giorni scorsi ho avuto modo comunque di dialogare con diversi gestori delle più grandi marche quindi parliamo di BlackRock di Morgan Style eccetera facendo un po' un'analisi dei diversi paesi europei e questo che vi accennavo dell'Italia delle particolari aziende e della possibilità di crescita ha avuto risalto da parte un po' di tutti i gestori per quanto riguarda le altre nazioni allora per quanto riguarda la Francia stiamo assistendo comunque anche lì una fase molto grave della pandemia che ha riacceso anche dei problemi sociali di integrazione che la Francia sembrava precedentemente aver superato ma che invece si sono riaffacciati nuovamente creando anche astio fra le varie classi sociali questo perché è venuta meno la possibilità per tutte le persone di accedere alle cure mediche di accedere ai sussidi che il governo francese sta elargendo quindi per quanto riguarda il paese francese assistiamo sicuramente a una criticità economica ma anche a una criticità sociale che si è nuovamente affacciata e che per fortuna il listino azionario francese ha in parte superato al momento l'arrivo di un vaccino è chiaro che darebbe a tutto il vaccino europeo una possibilità di crescita marcata la possibilità chiaramente di arrivare al prossimo fine 2021 con un prodotto interno lordo sfidante di crescita che cosa si aspettano comunque i governi dei vari paesi dagli aiuti che le banche centrali emergiranno allora per quanto riguarda il blocco europeo se noi dovessimo valutare la situazione attuale quindi considerare la fine della pandemia nei primi anni del 2021 l'immissione di liquidità creerebbe sicuramente una crescita economica più marcata che come vi ho accennato prima per l'Italia vorrebbe dire un prodotto interno lordo intorno al più 6% per altri paesi sono in corso le stime di valutazione della crescita per quanto riguarda la Germania che precedentemente nella prima fase di lockdown era stata meno toccata da quello che era diciamo così il disagio all'interno del paese attualmente anche lei sta vivendo una fase difficile in primis perché sono aumentati i casi delle persone malate in secondo luogo perché comunque il governo essendo partito un po' più in ritardo perché pensava di aver già superato questa fase ha dovuto porre comunque dei rimedi in modo marcato per arginare le fasi della pandemia e questo ha fatto sì che ci fosse un rallentamento anche da parte del prodotto interno tedesco che come ha colpito tutto il bacino europeo attualmente quindi per i risparmiatori se noi andiamo a fare delle valutazioni su quelle che sono le asset class in portafoglio vediamo che dopo la discesa marcata che si è verificata nella prima parte dell'anno e qui vi parlo di quando analizzavamo mercati che hanno dal punto di vista azionario perso il 20-30% un po' ovunque più barcatamente in Europa e di mercati obbligazionari che avevano comunque tassi a zero se si va a fare un'analisi al momento attuale vediamo che il mercato azionario ha restituito tutto quello che si era portato via durante il periodo della pandemia addirittura chi ha investito in modo diversificato su alcuni listini a oggi può avere comunque delle posizioni in guadagno ma in modo anche barcato vi faccio un esempio chi ha investito all'epoca della pandemia sull'economia cinese a oggi sicuramente vede dei guadagni a due cifre sul proprio portafoglio chi ha investito comunque in azioni in fondi azionari o in gestioni legate all'Europa all'America anche qui ha potuto portare a casa dei risultati importanti sul discorso obbligazionario qui siamo ancora un pochettino fermi perché come vi dicevo i tassi sia del blocco europeo che del blocco americano sono tassi sostanzialmente a zero o negativi quindi per quanto riguarda la parte del portafoglio che è destinata ad impegni a breve termine quindi quella che io normalmente declino come riserva perché in qualunque momento noi potremmo dover attingere per i bisogni immediati il parcheggio fatto su un obbligazionario può essere posizionato su un fondo che prenda in considerazione dei titoli europei delle obbligazioni e magari una piccola porzione sulla yield dei paesi emergenti tenendo presente che più inserisco delle obbligazioni legate alla yield più avrò volatilità sul portafoglio perché i prezzi magari sono condizionati anche dalle politiche economiche dei paesi emergenti per quanto riguarda i titoli di stato legati al blocco americano ecco devo essere un pochettino attento al fatto che quando acquisto un fondo se lo focalizzo per quelle che sono le mie necessità a breve dovrò scegliere comunque la copertura del cambio perché altrimenti mi espongo anche qui al rischio che il dollaro possa avere delle fluttuazioni importanti e quindi se io in quel momento devo andare a prelevare una parte per i miei bisogni immediati mi posso trovare in un momento in cui il dollaro ha subito una decurtazione e vendere male quelli che sono i miei risparmi immediati quindi da questo punto di vista come vi accennavo nelle puntate precedenti dove prendevamo in esame la costruzione del portafoglio devo essere consapevole che il cassetto a breve deve essere un cassetto tranquillo per quanto riguarda invece la rimanente parte del portafoglio è chiaro che ogni risparmiatore avrà un proprio vestito perché come vi dicevo non esiste un portafoglio ottimale da destinare a tutte le persone ma ognuno di noi dovrà essere in grado di effettuare delle scelte che lo portino alla costruzione di un portafoglio che realizzi gli obiettivi che il risparmiatore si è prefissato nel momento in cui ha iniziato il progetto del risparmio sicuramente a mio avviso essendomi confrontata con tanti analisti mi aspetto come vi dicevo dei tassi di interesse ancora bassi nei prossimi anni quindi l'idea di inserire dell'azionario con un arco temporale di 8-10 anni avrà sicuramente una valenza molto importante per la crescita del portafoglio allora arriva un messaggio da un telespettatore andiamo a vedere buongiorno Rosanna pensa sia una buona scelta quella di investire in un fondo pensione appena si inizia a lavorare Elena da Poirino allora buongiorno Elena allora facendo un po' un accenno a quello che stavo terminando di dire quindi al progetto del portafoglio che della costruzione del portafoglio che ogni risparmiatore deve comunque prefiggersi sicuramente la parte legata alla previdenza rappresenta un aspetto molto importante questo perché perché a oggi dobbiamo pensare di costruire il nostro futuro economico in passato le generazioni erano meno propense a farlo perlomeno in Italia perché si contava molto su quella che era la risorsa pensionistica noi siamo stati abituati a vedere i nostri genitori e i nostri nonni che al momento in cui andavano in pensione potevano beneficiare di una rendita che serviva a soddisfare tutte le esigenze della famiglia e in alcuni casi permetteva anche di risparmiare attualmente è cambiata la realtà ma non soltanto in Italia ma in tutto il mondo quindi il progetto di risparmio di ogni singolo individuo deve sicuramente prevedere anche l'asset della previdenza allora in Italia purtroppo abbiamo ancora una mentalità poco legata alla scelta di fondi pensione se non altro forse le ultime generazioni lo sono un pochettino di più ma soprattutto fra le persone che oggi hanno dai 40 anni in poi c'è ancora un po' di resistenza nell'effettuare questa scelta perché si pensa ancora che ci possa essere una riforma dell'Inps un cambiamento tale che faccia in modo che le nostre pensioni in futuro possano darci lo stesso risultato che attualmente può avere il nostro stipendio o il rendimento della nostra attività purtroppo ecco chi ha ricevuto la lettera arancio dall'Inps o semplicemente chi si è fatto fare un conteggio della propria pensione in base alle aspettative di vita e in base ai contributi versati perché attualmente chi va in pensione va con il sistema contributivo avrà preso coscienza che la realtà è molto diversa da quella che pensavamo quindi nella migliore delle ipotesi si vede una prospettiva di una pensione che è pari a circa il 50% di quello che oggi è l'introito che la persona porta a casa io recuto molto importante fare un pensiero a questo discorso della previdenza sensibilizzare nuove generazioni fare in modo che il progetto della previdenza diventi uno dei pilastri del progetto dell'investimento nella vita delle persone credo che prima si fa prima si parte più si avrà la possibilità in futuro di aver accantonato un quantitativo di denaro che permetta a ciascun risparmiatore di poter godere delle stesse qualità della vita che aveva nel momento in cui chiaramente era dedito all'attività lavorativa oggi i giovani forse sono un pochettino più sensibili anche perché a scuola si parla marcatamente di quella che è la crisi del sistema pensionistico oltretutto abbiamo assistito agli ultimi anni anche a chiaramente leggi che hanno mutato in modo molto repentino il calcolo e le età pensionabili le varie riforme di cui l'ultima la riforma Fornero hanno spostato in avanti l'età pensionistica fino ai 67 anni ma se permangono le attuali condizioni possiamo pensare che in futuro si possa arrivare anche a 70 anni e io credo che in alcuni casi soprattutto per chi fa dei lavori che sono non dico più pesanti fisicamente ma anche intellettualmente a un certo punto sopraggiunga il desiderio di poter staccare dalla vita lavorativa quindi l'essersi costruiti una posizione pensionistica privata tramite un fondo pensione può far sì di avere un reddito più elevato in futuro ma anche permettere chiaramente di staccare prima dal mondo del lavoro perché a un certo punto io potrò pensare va bene io a 65 anni interrompo la mia attività lavorativa la risorsa la vado ad attingere dal fondo pensione che ho accantonato durante il periodo in cui lavoravo o avevo un'attività e quindi mi farò anticipare 5 anni di rendita per approdare poi a quella che sarà l'erogazione pensionistica da parte dell'Inps o della cassa privata se sono comunque legato a una cassa privata quindi cara Elena io credo che sia molto importante per lei cominciare a pensare di istituire questo fondo pensione partire magari anche con un versamento non così elevato da parte sua e valutare l'immissione anche del trattamento di fine rapporto che l'azienda le mette a disposizione ogni mese che matura ogni mese e quindi destinarlo a questo fondo pensione se poi vuole dei suggerimenti privati ci parliamo allora c'è una telefonata in diretta proviamo a sentire il telespettatore un messaggio ok sentiamo il nuovo telespettatore buongiorno Rosanna quanta percentuale di azioni consiglia di avere in un portafoglio Lorena da Pralormo buongiorno Lorena allora la sua domanda è una domanda con una risposta difficile perché se lei ha un po' seguito le mie precedenti puntate io ho parlato molto di quello che è il progetto dell'investimento il profilo di rischio che chiaramente è diverso da una persona all'altra perché ognuno di noi nel momento in cui va a istituire il progetto di risparmio che io reputo uno fra i più importanti nella vita si prefiggerà di raggiungere determinati obiettivi quindi a seconda degli obiettivi che io mi prefigo di raggiungere e all'arco temporale che ho a disposizione per raggiungere questi obiettivi mi verrà destinata la forbice di azionario da immettere all'interno del portafoglio le faccio un esempio pratico per farla capire meglio se io so che dovrò utilizzare queste risorse fra 10 o 15 anni allora sicuramente posso permettermi un portafoglio con una componente azionaria molto alta perché i miei denari avranno la possibilità di crescere e nel momento opportuno io so che potrò attingere a quella risorsa avendo portato a casa un guadagno importante viceversa se io sono un risparmiatore che fra 2-3 anni avrà la necessità di acquistare la casa oppure di fare delle spese personali importanti magari legate all'attività allo studio dei figli o ad altri progetti legati alla famiglia l'avere un portafoglio con tantissime azioni può rappresentare un impedimento se nel momento in cui io devo andare a utilizzare questa fetta di portafoglio il mercato azionario fosse in una fase ribassista quindi bisogna analizzare attentamente quella che è la situazione di ogni singolo e costruire un po' un mercato su misura andando di volta in volta a fare un'analisi di quelli che sono i mercati di quelle che sono le priorità di crescita di alcuni comparti del mercato mondiale e tararci un po' su questa lunghezza donna io non conosco attualmente né la sua età né il suo portafoglio quindi dirle qual è la percentuale ottimale mi è molto difficile da parte mia io sono sicuramente una fautrice dell'acquisto di fondi azionari e di gestioni azionarie perché dopo tanti anni che svolgo questo lavoro ho visto che chi mi ha seguito e ha seguito i consigli dei maggiori analisti del mondo l'avere un portafoglio con composizione azionaria ha sempre dato degli ottimi risultati quando io ho iniziato circa 30 anni fa questo tipo di lavoro io ricordo non erano ancora presenti i fondi di investimento o le gestioni perché eravamo agli albori di un'epoca diversa quindi c'erano delle persone che chiaramente si compravano il proprio paniere di azioni alcuni facevano proprio i cassettisti perché intendevano beneficiare dei dividendi che determinate azioni distribuivano e quindi se le tenevano in portafoglio magari 4 o 5 anni anche perché non essendoci ancora il mercato globale la possibilità che ci fosse un'elevata volatilità sul mercato azionario non era non era ricompresa nel momento in cui poi siamo entrati nel mercato globale è chiaro che c'è un'interconnessione fra tutte le notizie che arrivano nel mondo e vi ho fatto l'esempio prima del discorso dell'annuncio del vaccino da parte della Pfizer ha fatto sì che tutte le borse mondiali pur non essendo direttamente interessate avessero un balzo molto importante quindi prendendo proprio spunto da quello che in passato facevano comunque le persone che accantonavano nel portafoglio un quantitativo di azioni si è arrivati poi a definire dei panieri tramite i fondi di investimento o le gestioni con un occhio particolare alla scelta dei titoli azionari da inserire all'interno di queste composizioni che però hanno comunque necessariamente bisogno di un arco temporale per poter dare soddisfazione allora un discorso è se io faccio la piccola speculazione momentanea quindi posso essere molto fortunato acquistare un titolo azionario e magari ecco sono in un momento in cui il mercato sta salendo posso anche dire va bene ho guadagnato i 1000 euro eccetera io sconsiglio però sulla porzione importante del portafoglio di addentrarsi dentro a speculazioni molto marcate perché se viceversa il mercato dovesse essere molto ribassista rischio di mettere a repentaglio i miei risparmi se non sono inseriti in un fondo di investimento in una gestione perché da solo avrò esaurito le risorse per andare a mediare e non beneficerò dei consigli di quelli che sono gli esperti del mercato per andare a fare delle scelte opportune all'interno dei singoli panieri quindi le dico Lorena bisogna proprio fare un po' un'analisi di quelle che sono le sue scelte in ambito finanziario in ambito di costruzione del portafoglio e anche in relazione agli obiettivi che lei si è posta nel momento in cui è partita con gli investimenti io mi aggancio anche un po' al discorso che facevo a Elena la telespettatrice di prima che mi ha che mi ha che mi ha mandato il messaggio e chiaramente le dico sicuramente anche per quanto riguarda il fondo pensione se lei è una persona giovane vedo questo asset class quindi il fondo pensione è proiettato verso una componente azionaria perché se andrà in pensione tra tanti anni sicuramente il paniere che si ritroverà alla data opportuna con dell'azionario all'interno avrà un valore decisamente più importante rispetto a lasciarlo parcheggiato su singoli titoli obbligazionari o su dei fondi obbligazionari viceversa se lei è una persona magari in età più avanzata può valutare ad esempio in ambito successorio la possibilità di acquisire delle azioni ma all'interno di comparti come le polisse di investimento che beneficiano altresì dell'impignorabilità dell'insequestrabilità e dell'esenzione dalle tasse di successione valuti che questo è un aspetto molto importante perché qualora lei non abbia degli eredi diretti questo vorrebbe dire che le persone che sono su eredi non dovranno pagare le tasse di successione che comunque rappresentano un obolo molto significativo da versare alle casse dello Stato quindi se vuole un suggerimento più particolareggiato la invito comunque a contattarmi magari in privato per fare una valutazione della composizione del suo portafoglio tenga però presente che io sono sempre favorevole all'inserimento di questa asset class chiaramente con risvolto al suo profilo di rischio quindi appunto a parte il caso di Lorena ecco io la cosa che consiglio sempre ai singoli risparmiatori di non lasciarsi trarre in inganno da quella che è l'ondata euforica momentanea come vi dicevo nel lungo percorso di lavoro che ho avuto io ho visto tante volte delle persone che sull'onda dell'euforia hanno dell'apidato delle risorse molto importanti allora ricordo quando c'è stato un po' l'avvento della nuova tecnologia quindi mercati americani legati alla new technology che avevano comunque delle impennate molto importanti alcuni risparmiatori facendo un fai da te hanno deciso di comprare delle azioni perché tutti i giorni aumentavano logicamente avevano avuto non solo da parte mia ma anche degli analisti un po' un plauso negativo di fronte al progetto che stavano portando avanti e dopo un po' di tempo quando c'è stata una stretta sul mercato e quindi una discesa molto marcata ho visto tanta gente perdere in modo dirompente i denari che erano stati accantonati in tutta la vita quindi come avevo già accennato nelle puntate precedenti io ritengo che il progetto del risparmio sia uno fra i più importanti nella vita di una persona quindi merita dedicare delle attenzioni merita dedicare del tempo affidarsi delle persone competenti che siano in grado di consigliarci su quelle che sono le scelte più opportune per fare chiaramente l'inserimento delle singole componenti ma anche per fare delle revisioni mensili del portafoglio perché obiettivamente se io ho un portafoglio non posso pensare che una volta costruito lo abbandono nel cassetto e non ci metto più mano devo chiaramente confrontarmi con il consulente con la persona che mi ha aiutato a costruirlo almeno mensilmente questa maggior ragione come vi accennavo dal momento che siamo in presenza di mercati globali e che quindi un'azione politica un'azione sociale una notizia importante possono creare in tutto il mondo dei cambiamenti molto marcati per quanto riguarda i valori di mercato e che chiaramente poi si ribaldano sul portafoglio che noi abbiamo come vi accennavo il discorso del portafoglio se io ho un arco temporale medio-lungo posso chiaramente valutare la possibilità allora c'è una telefonata in linea proviamo a sentire il telespettatore buongiorno 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 allora è caduta la linea magari il telespettatore ci richiama quindi proseguo un attimino il discorso che vi dicevo legato al progetto di risparmio prendiamo in considerazione proprio il fatto di confrontarci almeno una volta al mese con il consulente in relazione chiaramente alla variabilità che i mercati in un ambito globale possono avere al giorno d'oggi quindi io penso proprio che anche in occasione degli avvenimenti che vivremo sia da qui a fine anno sia all'inizio dell'anno prossimo sia importante magari operare una revisione al portafoglio che abbiamo o se non altro confrontarci per valutare che le scelte che abbiamo posto in essere siano ancora attuali e rispecchino la realtà economica del momento che stiamo vivendo per i giovani risparmiatori io consiglio sempre chiaramente di partire anche con il progetto pensionistico come accennavo prima Elena ma anche se abbiamo iniziato a lavorare in un'età un pochettino più avanti l'affiancare al proprio progetto di risparmio la costruzione di un fondo pensione rappresenterà per il nostro futuro la possibilità molto importante di portarci a casa dei risultati e di mantenere lo stesso stile di vita del quale magari riusciamo a godere oggi anche perché ipoteticamente le maggiori statistiche mondiali indicano che ci sarà chiaramente un peggioramento delle condizioni di vita perché ci sarà un impoverimento della popolazione quindi a oggi l'accantonare del denaro per il futuro può rappresentare sicuramente un discorso molto importante altro aspetto sicuramente da valutare è quello poi del comparto assicurativo dove ognuno delle persone avrà delle esigenze e quindi confrontandosi con il consulente potrà portare a casa quelle che sono le soluzioni maggiormente di impatto per le proprie esigenze altresì un altro discorso che vi raccomando è legato al vostro patrimonio immobiliare questo è un momento in cui assistiamo chiaramente a una variabilità dei prezzi e sicuramente forse ancora l'anno prossimo ci saranno dei cambiamenti importanti in questo comparto quindi se non l'avete ancora fatto un'analisi approfondita anche per quanto riguarda il patrimonio immobiliare perché chiaramente la gestione del patrimonio va a comprendere sicuramente anche la parte che noi abbiamo investito nell'ambito immobiliare quindi questo è un po' il consiglio che in questo momento vi do alla luce di quelli che potrebbero essere i cambiamenti economici e politici che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi ci stiamo avvicinando anche oggi alla fine della trasmissione io vi ringrazio tantissimo per continuare a seguirmi vi ribadisco che sono a disposizione per ogni vostra curiosità e per ogni vostra esigenza potete contattarmi ai recapiti telefonici alla mail venirmi a trovare in ufficio anche se in questo momento stante la criticità del lockdown probabilmente con molti di voi si riuscirà a dialogare tramite le piattaforme Skype Zoom Meet e a risolvere le vostre problematiche anche in questo modo ci vedremo nuovamente nella puntata di dicembre dove sicuramente sarò in grado di enunciarvi qualche qualche novità legata alle politiche delle banche centrali sia americana sia europea che impatteranno per il 2021 vi ringrazio tantissimo e vi auguro un felice pomeriggio alla prossima puntata grazie a tutti